Musica Musica Amici di Sport Event, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento del lunedì sera, siamo in rigorosa diretta a Canale 271. La settimana scorsa l'abbiamo, ci ha beliziato con la sua splendida interpretazione Canora, stasera ci ha accompagnato la doppia veste sia di cantante che di conduttrice. Buonasera Teresa Moncia. Buonasera a tutti, buonasera Mario, buonasera agli ospiti. Teresa di solito si fanno nel finale, vogliamo salutare tutti i tuoi amici che ti seguono. Salutiamo il pubblico che sicuramente saranno in tanti perché so che questa trasmissione è molto seguita, ce ne saranno delle belle sicuramente, non vi resta che sintonizzarvi su questo canale, non vi muovete perché ci saranno veramente tante sorprese. Poi per chi ama lo sport come voi, che sicuramente state lì immobili a sentire le novità, ce ne saranno delle belle. 347-038-4284, i numeri e potete mandare messaggi ai nostri ospiti studio. Buonasera, lui è il muro della difesa della fragolese, Vincenzo Noviello, buonasera. Buonasera, buonasera. Giovane direttore sportivo emergente, ha fatto benissimo quest'anno con la sua Mawed Sport, dando fila a torce a lei del mercatito, fino alla fine lo vogliamo ricordare. Buonasera, direttore Andrea De Rosa. Buonasera. Una salvezza che sa di miracolo, maturata l'ultimo secondo, l'ultima giornata, abbiamo seguito con affetto, per noi l'onore stasera avere in studio il mister Nello Di Costanzo. Buonasera mister. Buonasera a voi. Ama le sfide, che devono essere tutte da vincere naturalmente, un personaggio sempre contestato, ogni inizio campionato, le sfide le prende, le accetta e le vince. Buonasera, presidente della frattese che danno a batti loro. Buonasera Mario. Sua compagnia ormai è un duo collaudato, e il tuo braccio destro. Buonasera, l'abbiamo ritrovato con Pimonti in questa stagione, direttore generale, nonché vicepresidente, se non sbaglio, in inizio stagione della frattese. Buonasera ad Alessio Matregano. Buonasera. Naturalmente, Teresa, c'è da ringraziare i nostri amici, i sponsor che ci accompagnano durante il nostro percorso calcistico. Esattamente. Ricordiamo Edilmer, materiali edili, di Cardito, Tatanka Club di Caserta, città di Pomigliano d'Arco Pomiglia Energy, scuola paritaria istituto San Tommaso d'Aquino, avvocato Arnaldo Todisco e seroga a Palti di Giuliano in Campania. Prima di entrare nel corso della nostra diretta, mister Di Costanzo, abbiamo il ghiaccio con te, una salvezza che è stata di miracolo, una parentesi a Pomigliano, accettata perché anche tu, è una sfida da vincere, prima allenamento, prima frase ai ragazzi nello spogliatoio, io accetto questa sfida e la voglio vincere. Il 5 maggio voglio festeggiare con tutti voi la salvezza, hai mantenuto l'impegno? Grazie a tante componenti, in primis la società, perché ci ha messo in condizione di poter lavorare le ultime sei partite nel migliore dei modi per raggiungere l'obiettivo e poi naturalmente tutti i calciatori che si sono messi a disposizione mia e dei colori più che altro e con grande orgoglio, grande impegno, anche con tante difficoltà, alla fine è stato il giusto premio questa vittoria che c'è stata nell'ultima partita, negli ultimissimi minuti, al sacrificio che ci hanno messo i ragazzi. Quindi veramente li ringrazio in questo momento pubblicamente perché hanno messo tutto e la situazione era piuttosto complicata, abbiamo anche incontrato la frattese che ci aveva battuto, che ci aveva dato filo da torcere, ma c'è stata un'ottima reazione psicologicamente parlando e le ultime due partite con sei punti, grazie al risultato purtroppo per loro negativo della Turris a Taranto, che poi insomma io ho giocato pure nella Turris tre anni in Serie C, quindi alla fine facevo il tifo per loro, però grazie a quel risultato intanto noi siamo andati in vacanza due settimane prima. Partiamo subito con, ringraziamo naturalmente Gerardo Dulci in capitale di regia, Pasquale Turc il nostro direttore di produzione, Fabio Turc il nostro tecnico qui in studio, salutiamo tutti i tecnici targati sportivi impegnati nel nostro weekend calcistico e non solo. Tempo di playoff, importanti spareggi, l'Ercolano crolla al dispetto dell'Igea, risultati delle playoff campane come dicevamo, Cavese d'Ardo 3-1 già disputata, Ercolanese Igea Virtus 0-3, coinvolgiamo il Presidente della Frattese Gaetano Battiloro, Presidente nel commentare questo risultato partiamo pure con le immagini di Gerardo, ci trasferiamo al Solaro di Ercolano, salutiamo i tifosi dell'Ercolanese, Ciro Lopez, tutti i tifosi della Brigata Vesuviana che ci seguono ogni lunedì, te l'aspettavi questa sconvitta dell'Ercolanese? Sicuramente no, però quando si arriva a fine stagione credo che qualunque risultato sia possibile, anche perché solitamente vince la squadra che arriva mentalmente meglio all'affondamento, vince la squadra che sul piano fisico si presenta nelle migliori condizioni, quindi non è da scudere nulla nel finale di stagione, soprattutto poi durante i playoff e i playout. Mi dispiace molto perché l'Ercolanese è una squadra, una città alla quale sono particolarmente legato e quindi mi avrebbe fatto piacere che ieri avrebbe superato l'Igene Virtus ed essere inserita tra le società ispiranti al ripiascaggio. Però comunque rimane una stagione straordinaria del Presidente Mazzamavolo, un grande lavoro di squillante e soprattutto un grande campionato portato avanti dai ragazzi, quindi bisogna solamente complimentarsi con questa società. Alzi la mano, magari il calcio non si fa con i secoli ma, però è innegabile che l'aver giocato oltre 10 gare senza Eluazani per infortunio, la squadra se la poteva giocare diversamente. Onore e merito ai ragazzi dell'Ercolanese del Presidente Mazzamavolo, grandissimo campionato, il grazie associandosi alle parole del direttore Marco Mignano che ha tenuto a ringraziare tutta la squadra per l'impegno profuso, a testa alta, si onora questo campionato. Presidente, bisogna soltanto ringraziarvi per questo splendido cammino, perché fino alla fine dal filo da torcere è un ottimo piazzamento finale. Ma io credo che Ercolano dovrebbe essere contentissimo, perché dopo diversi anni di anonimato hanno trovato un grande presidente, una persona seria e quindi stanno portando avanti questo progetto da alcuni anni. Quest'anno sono andati vicinissimi alla promozione in Lega Pro, credo che se continuate a lavorare, così come sta facendo, ripeto, da alcuni anni, prima o dopo ci arriverà. Mister Di Costanzo, questa vittoria è importante all'Igea, 3 a 0, temi che l'Ercolanese abbia dato tutto e quindi onore e merito alla compaggia siciliana. Cosa può essere successo? Lo sai, la gara secca, come insegni? Ma intanto dalle immagini vedo che la frattese ha avuto molte occasioni da gol. L'Ercolanese ha avuto molte occasioni da gol, ci sono parecchi sviluppi veramente con fluidità di manovra e quindi immagino, non ho visto la partita direttamente, ma immagino che il 3 a 0 sia un risultato un po' falso perché se guardiamo tutte le occasioni forse si sono sbilanciati magari a un certo punto per recuperare il risultato e diventa così rotondo, ma veramente onore e merito a questo Ercolano che è riuscita fino in fondo comunque a essere una squadra competitiva, ha avuto qualche piccola pausa durante l'arco del campionato, però io penso che per come erano i programmi iniziali abbia fatto veramente tantissimo e quindi a partire da queste esperienze di quest'anno io sono convinto che l'anno prossimo possano addirittura puntare a vincere. Entri a me su Teresa, domanda per il nostro direttore Peterosa. La stagione calcistica avvolge al termine, in Serie D tra le campane chi ti ha maggiormente impressionato? Forse proprio l'Ercolanese, sai, perché comunque in Serie D quest'anno ci sono state molte squadre che hanno lottato per la salvezza, ma solamente la Cavese e l'Ercolanese hanno lottato per i vertici. Ho visto molte partite quest'anno dell'Ercolanese e devo dire che nonostante l'ultima sconfitta non va assolutamente a macchiare una stagione strepitosa, come prima diceva il Ministro di Costanzo e il Presidente Battiloro. È un lavoro che è un progetto che si hanno portato avanti da anni e penso che è una società che l'anno prossimo sia pronta per puntare proprio al vertice, perché devo fare complimenti al direttore Mignano che, oltre agli allenatori che sono passati, è la società che veramente stanno facendo qualcosa di importante in una piazza dove per tanti anni è mancato il vero calcio. Spazio ai messaggi, cerchiamo di leggerli tutti, partiamo a Raffi, casi nelle primissime minuti della nostra diretta. Un saluto alla famiglia di Giovanni Vitiello, fedelissimi di Sport Event, ogni lunedì ci seguono, viva lo sport, in bocca al lupo per la trasmissione. Allora, buonasera Mario, un saluto ai nostri ospiti in studio, al nostro Noviello, al direttore De Rosa, al nostro ex amico e grande mister Di Costanzo, al Presidente, al direttore Battiloro, a tutti voi in studio, Nello Di Costanzo ha giocato alla Fragola naturalmente anni fa, Peppe Rosa da Fragola. Vincenzo Noviello, buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera. Allora, Vincenzo, il saluto ai tifosi rosso-blu. Vabbè, questo è doveroso. Il dodicissimo come in campo. Scendere in campo, avendo alle spalle una società seria, ma un pubblico compatto che vi sostiene sempre, sette giorni su sette, è un punto a vostro favore. Sì, sicuramente. Noi domenica l'hanno dimostrata la grandissima, ma non solo domenica, perché ci hanno seguito anche in Sicilia. Ci stanno dando un grandissimo supporto, ma non solo adesso, l'hanno fatto per tutta l'annata. Anche quando le cose forse non andavano benissimo, ci hanno dato una grandissima mano, anche ad uscire dai momenti negativi. Domenica penso che sono stati l'uomo in più, in campo, e penso che ci hanno dato quella spinta che comunque con il caldo che c'era ci voleva. Nello spogliatore chiaro si respira, ma è stato bravo Mr. Coppola a trasmettere la giusta calma, calma, la forza. Mr. Coppola, la sua prerogativa è stata quella, dal primo momento che è venuto nello spogliatore, ha cercato di dare la tranquillità giusta alla squadra, perché comunque è una persona che ha giocato, ha calcato i campi e sa cosa vuol dire partire dalla prima giornata di campionato a cercare di vincere un campionato. Quando poi questo non succede, perché troviamo davanti a noi un Savoia che ha ammazzato un campionato, la cosa importante in quel momento era lavorare sulla mente dei giocatori. Lui è stato bravissimo in quello, ci ha portato fino ad oggi a fare un grandissimo campionato e ci stiamo giocando la chance importante per la Fragolese di tornare nel calcio che conta, perché questo lo voglio sottolineare, la Fragolese è una squadra che in eccellenza non c'entra niente per il pubblico, per la società, una grandissima società che veramente ha le potenzialità, non solo economiche, ma proprio come persone che sono a capo di questa società, di fare categorie importanti. Visseti Costanzo, lascia le sue parole perché conosci benissimo questa piazza. Sì, io ci ho giocato in Serie C, e quindi so il calore, l'entusiasmo che c'è ad Afragola. Adesso è riacceso grazie a questa nuova società e devo dire che effettivamente il Savoia ha fatto un campionato a sé tranne la parte iniziale in cui comunque stentava un po' e poi la Fragolese, nonostante ci fosse una concorrenza guerrita, perché anche la Puteolana, la stessa Casoria, il Giuliano che poi si è un po' perso per strada, ma in questo campionato di eccellenza io ho notato che ci sono tante squadre attrezzate, quindi questo dà ancora più valore al secondo posto della Fragolese e davvero noi speriamo tutti che torni almeno in Serie D, chissà, un domani magari in Serie C come negli anni Ottanta in cui il mio presidente era Franco Grillo ed era definita un po' la Juve della Serie C per capacità di mantenere gli impegni. All'epoca era un piacere andare a giocare nella Fragolese perché c'era una società solida e dopo tanti anni noto che finalmente è così anche adesso e anche il pubblico si sta riavvicinando alla squadra, mi fa molto piacere. Allora procediamo con il direttore generale Alessio Matricano, so che lei ama particolarmente lavorare con i giovani, c'è qualche talento in giro attualmente che a lei ha colpito in modo particolare? Parliamo di giovani, in età compresa dal 99, 2000, 2001, ce ne sono diversi anche perché io poi non mi limito solo a seguire la squadra in cui lavoro ma tutte le domeniche, sabato, quando posso sono sui campi. Per l'appunto domenica mattina ho visto una partita a Baia Domizia dove c'erano dei 2001 veramente, veramente interessanti. Ah, che bello. 3, 4, forse anche 5, adesso non ricordo, li ho mandati in Lega a provare, chiaramente come si suol dire, però sono ragazzi validi, spero per loro, per le famiglie che trovino collocazione perché sono bravi, però il giovane deve essere eseguito. Ovvio, ovvio. Oggi i procuratori e anche qualche direttore sportivo vanno a cercare il prodotto già fatto ma il prodotto già fatto si segue da solo. Se io vado a prendere, dico per dire, Calaion, Calaion è un giocatore fatto dove io riesco a gestirlo ma se io vado a cercare un giovane 2001, 2002 e lo seguo con attenzione, lo faccio curare, sicuramente avrò dei profitti. Ora, nella mia futura squadra dove andrò quest'anno, sicuramente la prima squadra sarà nei miei pensieri ma il settore giovanile secondo me è fondamentale per la squadra stessa ma anche per far crescere questi ragazzi che secondo me in Campania, ripeto, adesso non è che io sia, io sono un semplice lavoratore che ama il calcio, però i giovani dovrebbero seguire io ho visto uno, bravissimo senza fare nomi perché domani lo scopriamo tutti e questo ragazzo secondo me non è stato mai visto da nessuno perché è qualcosa di fenomenale. Mamma mia, bene. Un saluto agli amici di Sport Event Mario, mi raccomando, saluto il Presidente Battiloro il tuo amico Ciro di Torre Annunziata. Presidente, cominciamo con i messaggi di tante piazze perché oltre 40 anni di... Ciro è un ripresente. È un ripresente, sì. Ringrazio Ciro, poi ringrazio Torre Annunziata che è una città alla quale pure sono molto legato sono stato benissimo mi hanno sempre accolto bene e quindi gli ringraziamenti di Ciro sono graditissimi. Naturalmente stavo distratto perché stavo leggendo i messaggi Dario Algamaggio un saluto al mio amico fratello Vincenzo Noviello vogliamo ringraziare Vincenzo Dario e naturalmente la società ma Vincenzo D'Anzillo Dario Algamaggio ragazzi che stanno ma sono davvero amano e lottano per i colori sociali ho avuto l'onore di conoscerli già la scorsa stagione col Portici diciamo che hanno ragazzi spettacolari oltre che competenti nel loro lavoro sono ragazzi che ci mettono veramente l'anima in quel che fanno e lo dimostrano tutte le domeniche infatti sono diventati i beniamini dei nostri tifosi che sono ragazzi eccezionali Un applauso a tutta la squadra la società dell'Ercolanese al direttore Mignano per la spettacolare stagione appena terminata da ex Granata spero possono ottenere sempre di più un abbraccio un saluto al mister di Costanzo Noviello al direttore Battiloro al direttore De Rosa e a Madre Cano Marco Tufano applauso il nostro capitano Presidente grande stagione uomo spogliatoio Marco è stato un capitano sotto tutti i punti di vista è stato un capitano in campo un capitano fuori una grande persona diciamo oltre a tutto in campo corre più degli altri sicuramente è stato per noi un valore aggiunto a una salvezza che probabilmente nessuno credeva che potessimo ottenerla grande merito proprio al capitano Questa è la forza nostra diretta non prepariamo nulla tutto live Presidente Battiloro si è parlato di venire a Pozzuoli quante possibilità ci sono? Questa è una domanda che non mi aspettavo abbiamo un altro ti abbiamo spiazzato cambiamo domanda è ambitissimo cambiamo domanda Mario mi hanno chiamato da diverse città campane io sono stato sempre molto chiaro all'indomani della sofferta permanenza del play out di Sansevero io dissi mi prendo un attimo una pausa di riflessione voglio valutare attentamente dopo l'annata diciamo dove siamo stati seduti e abbandonati in quel di Mugnano e voglio prendermi una pausa di riflessione e poi con calma devo cercare di capire anche questo titolo dove deve andare in quale casa deve entrare perché a noi ci mancava proprio una casa in questa annata che è terminata mi hanno chiamato da Pozzuoli mi hanno chiamato da Ponticelli mi hanno chiamato praticamente da più parti Massimo Dalizio con l'avvocato Arnaldo Rodisco continua si è arenato no 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 guarda io mi sono incontrato appena oggi con l'avvocato quindi i nostri diciamo i nostri contatti continuano io sono stato molto chiaro anche con lo stesso avvocato io ho bisogno di certezze non mi piace fare brutte figure noi quest'anno abbiamo portato a termine un'annata credo bene sotto tutti i punti di vista anche nel rapporto con la squadra con lo staff tecnico nel momento in cui io deciderò di portare definitivamente il titolo a Ponticelli o a Pozzuoli o ritornare perché non è da escludere nella stessa fretta maggiore chiunque si siede con me intorno al tavolo deve sapere due cose indispensabili una che il calcio continuo a farlo io quindi chi vuole fare calcio prima risposta l'abbiamo data chi vuole fare calcio lo fa insieme a me è innegabile è innegabile ti riporto gli stiamo inanzi i tifosi lavoro con i tifosi della Puteolana e oggi mi hanno fermato alle 14 c'è questa voce Mario ma io stimo e rispetto per tutte le tifoserie per le città che negli ultimi giorni mi hanno contattato proprio perché ho rispetto nei loro confronti nel momento in cui deciderò definitivamente la destinazione io a questa gente gli devo portare certezze non poi vediamo poi diciamo perché mi insegni che io ci sono da 50 anni dentro Nello un po' come me quindi voglio dire il calcio è proprio il classico mondo dove si dice armiamoci andateci e allora personalmente ovunque andrò gli devo portare certezze sotto tutti i punti di vista nei prossimi giorni decideremo definitivamente dove approdare poi ci deve essere anche la questione campo perché non ci dimentichiamo io ho bisogno di una casa dove c'è un campo omologato per l'interregionale con tutti i requisiti e quindi bisogna valutare bene tutto bisogna valutare tutto Andrea De Rosa ma Wett Sport una splendida realtà quando veniste in trasmissione c'erano 5-6 punti di stacco dall'Elimer rispondesti candidamente io me la giocerò fino alla fine avete dato fino alla torcia alla capolista del girone che ha vinto con merito naturalmente e ha portato in promozione ho sempre detto è innegabile l'Elimer è strutturata probabilmente per fare categorie superiori aveva calciatori che hanno sempre militato in categorie superiori quindi noi abbiamo per un attimo sfiorato l'idea di sorpassarli proprio quando in quel di Gardito andiamo a vincere 3-2 una partita una partita bellissima da parte nostra però è giusto anche dare merito agli avversari domenica probabilmente ci sta la possibilità di salire di categoria anche se poi dobbiamo aspettare dagli altri campi se riusciamo a incastrare gli altri spareggi abbiamo fatto un'annata importante spettacolare speriamo di di superare il turno grazie a tutti i calciatori dell'Ercolanese per questa bellissima stagione grazie a tutte le tv che hanno seguito la squadra per averci fatto vedere le immagini dei nostri giocatori questi sono i messaggi che arrivano ricordo che tanti anni fa sicuramente non ricordo solo io ma nel 1973-74 ho avuto il piacere di giocare anche io ad Afragola all'epoca credo sia promozione conosco la squadra perché le ho seguiti oltre Noviello che è bravissimo ci sta Vitiello ci sta Manzo ci sono tanti altri che adesso mi perdonino ma io sono convinto che una società come la Fragolese meriti sicuramente di andare ma soprattutto non tanto per il pubblico la società ma vi assicuro che sono fior fior di giocatori e uno lo abbiamo qui in merito al presidente Battiloro vi rubo 30 secondi anche io come tutti siamo in ansia e aspettiamo le decisioni del presidente perché quest'anno visto che avremo avrò la possibilità di collaborare a stretto bacio col presidente anche io aspetto fiducioso gli eventi però come diceva prima il presidente è ovvio che deve pensare a portare il calcio dove diano delle garanzie a lui ma soprattutto alla città e soprattutto a chi segue la frattese è bello adesso celebrare la salvezza della frattese ma io vorrei ricordare i tanti denigratori in inizio stagione chi ti ha buttato la faccia caro presidente a una squadra legata soprattutto all'infortunio dell'attaccante Signorelli non ne mandiamo a dire a chi ha storto il naso in seguito all'ingaggio di Antonio Maschio al via vai di direttore al via vai di allenatore adesso è bello celebrare questa salvezza ma ricordiamola una stagione tribolatissima non è merito a gente con gli attributi come Marco Tufano può parlare perché si è sempre esposto pigliandosi i fischi dopo una sconfitta e i meriti ad oggi dopo una salvezza una stagione particolare giusti questi giorni di riflessione e poi procedere al meglio presidente questo è il tuo indirizzo lo dico molto tranquillamente la mia forza del calcio sono i denigratori perché io ce li ho 50 anni quindi voglio dire 50 anni la prima stacquadata 50 anni tutti i giorni non trovo di meglio che stare fuori ai bar a sparare di uno o a sparare di un altro in termini non trospetti ti dissi che in campagna ci sono due categorie di addetti ai lavori te lo dissi una che appartirà al verbo dire e un'altra che appartirà al verbo fare al verbo dire ci sta mezza campagna forse tre quarti al verbo fare siamo pochi mi metto in questa in questa categoria con la mia umiltà col mio silenzio assorbendo tutto quindi alla fine è il campo che deve parlare qui abbiamo il maestro non lo voglio dire perché anche il signor di Costanzo alla sua prima esperienza di allenatore la ebbe col Campania che io stavo praticamente vicino ma fatta apposta questa puntata una serie di intrecci tra me tutti intrecci questa puntata e quindi Nella ha conosciuto il grande calcio e sono molto dispiaciuti da Marge io vinto il primo campionato con Inglise quindi poi ritornato voglio aspettare anche una parola sulla Fragolese perché Novello ha detto tutto prima come l'ha detto Enrico Costanzo la Fragolese non c'entra niente in eccellenza perché la Fragolese negli anni Ottanta quando aveva come presidente Palladino quando aveva lo stesso Grillo quando aveva Rocco Giuliano quando aveva Fantini l'allenatore che all'epoca propose io era una società una squadra che praticamente ovunque andava dettava legge dominava e quindi poi come tutta la società come tante città ha conosciuto per diversi anni l'anonimato è scomparsa diciamo un po' adesso è ripartita mi hanno detto c'è una società importante c'è i calciatori che ha mica li dobbiamo scoprire questa sera sono calciatori che tranquillamente non li posso prendere io al fratto perché costano troppo quindi voglio dire ma sono calciatori importanti ritengo che quest'anno sia la volta buona dopo la delusione della scorsa annata di approdare in Serie D e io veramente faccio di cuore gli auguri e i complimenti a questa società Memorial Pasquale Felicello ci trasferiamo in quello di Casa allo Stato di Oro di Casa al Nuovo per non dimenticare per non abbassare mai la guardia un saluto ai figli di Pasquale Felicello via al contributo di immagini e il nostro paese a tutti i nostri spiegati a tutti i nostri spiegati Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ascoltiamo le parole dei figli di Pasquale Felicello. Il significato della giornata di oggi? Per noi della famiglia Felicello è una cosa molto importante, penso anche per i casalnovesi. C'è un incontro contro le mafie perché mio padre è stato la vittima innocente della mafia, riconosciuta dopo molte lotte che abbiamo affrontato io e i miei otto fratelli. Alla fine c'è stata riconosciuta che mio padre era completamente estraneo a qualsiasi forma di delinquenza o altro. Questo per noi oggi, che è la terza volta che lo facciamo, è un segnale di libertà nei confronti di questi personaggi. È un segnale di dire viviamo liberi, non facciamoci coinvolgere in azioni delinquenziali. Noi siamo un popolo libero, nato libero e dobbiamo vivere liberi. Non dobbiamo né costringersi, ma né tanto meno farci costringere da questi personaggi di malaffare, come vogliamo indicarli. Questo è per noi oggi una dimostrazione ancora una volta dell'onestà e del nostro stare dalla parte della giustizia. Il nostro stare dalla parte della giustizia, mister Di Costanza, anche io vorrei la tua testimonianza. Un saluto naturalmente alla famiglia di Pasquale Felicello, ben 11 figli, tante gente comune, tifosi, addetti ai lavori. Ci siamo ritornati sabato scorso allo Stato di Giustizia, lo stesso del direttore De Rosso, scusami, non te l'ho detto all'inizio. Mister? Sì, sono belle iniziative perché rappresentano l'immagine pulita del nostro territorio. E anche c'è la memoria di una persona che evidentemente attraverso questo sport che è il calcio, che crea aggregazione, rivive la memoria di questa persona. Quindi mi fa piacere che ce ne siano tante di queste iniziative. Tra l'altro, una parentesi, lunedì prossimo si sta organizzando a San Sebastiano una partita pro Imbriani. Carmelo Imbriani, io ho allenato il Benevento in C1, fui proprio io con il presidente Spatola allora a integrarlo in rosa. Poi negli anni successivi è diventato il capitano, la bandiera e ogni anno si crea qualche iniziativa benefica a suo favore. Quindi queste iniziative veramente sono coinvolgenti, toccano il cuore e ce ne siano proprio tante. Perché il calcio deve essere veramente un momento di unione dopo gli scontri, diciamo tra virgolette, sportivi in campo. Il calcio deve creare vicinanza, unione e poi aiuta anche a creare dei momenti proprio di beneficenza economica. Perché adesso i proventi non so a chi andranno ma senz'altro andranno in beneficenza. Teresa il calcio deve unire, è aggregazione? Assolutamente sì. Il calcio come dicevo anche l'altra volta, secondo me tutte le passioni alla fine devono avere questo obiettivo. Quello di unire, di creare armonia nel gruppo ed è anche secondo me una buona scusante per non prendere poi altre strade che poi ci deviano un po'. E quindi concentrarsi su un obiettivo positivo che poi la società ci va comunque ad offrire. La famiglia in primis deve accompagnare in questa cosa. Dopodiché, come diceva Alessio Matricano, stesso insomma le persone che lavorano con questi ragazzi devono seguire in maniera particolare loro. Direttore De Rosa, è ripresente sabato il tuo sostegno e saluto alla famiglia di Pasquale Felicello. Assolutamente, quando si sensibilizzano queste iniziative, proprio come diceva il mister Pocanzi, sono iniziative che poi... Il calcio a volte tutti dicono è uno sport dove girano tanti soldi, però è pure uno sport dove c'è tanta utenza. Quindi nel momento in cui si va a sensibilizzare questa brutta pagina che si è consumata anni fa, e poi vengono fuori queste strade che non devono essere intraprese. Quindi, giustamente dicevi tu, i giovani dovrebbero prendere strade positive piuttosto che queste negative. Continuiamo con la testimonianza dei figli di Pasquale Felicello. Terzo appuntamento, un'associazione stessa nel territorio che chiede all'adesione di tanti amici. Sì, certamente. Io in primis vorrei ringraziare il direttore sportivo Giuseppe Dalise che negli anni ha dato sempre il cuore, la passione nello sport a casa nuova. E grazie a lui per la terza volta noi riusciamo a fare questo memorial, diciamo un po' l'organizzazione insieme a mio fratello Pietro Felicello che è l'organizzatore. Noi facciamo queste manifestazioni che miriamo ad avvicinare i giovani allo sport, i giovani alla cultura, perché facciamo all'interno dell'associazione dopo scuola, facciamo tante attività didattiche allo stesso e speriamo che i giovani si avvicinino e capiscono questo segnale forte che la camorra è una montagna di merda. Senza censura perché nel nostro consumo, nel nostro uso assolutamente, per non abbassare mai la guardia sia rispetto alle regole sia il messaggio che noi possiamo lanciare ai giovani perché oggi parliamo di uno splendido quadrangolare perché il calcio, amicizia e aggregazione deve essere rispetto alle regole. Certamente, lo sport, il calcio serve proprio a questo, ad aggregare tutti gli giovani, ma gli stessi sportivi, le stesse famiglie intorno ai ragazzini, voglio dire che trovano un momento di svago, un calcio fatto ancora a livello amatoriale dove veramente ha un senso lo sport, diciamo così. Ed è importante che noi siamo presenti sempre in questi tipi di attività. Ma è cambiata la vostra vita da quel lontano 5 maggio 90? È cambiata, è cambiata perché ci sono volto 26 anni per poter avere questo risultato, ecco, finalmente noi siamo vittime, ma per 26 anni lo siamo stati dentro il cuore, da sole, marginati, un po' da tutti, un po' da tutti perché... Lo stampa che non ha di certo aiutato, specializzato, leggevamo adesso tante cose per poi ricredersi con due righe. Io mi ricordo che all'epoca, quando mio padre, leggendo i giornali dell'epoca, ne dissero di tutti i colori, ma così, senza fare i dovuti accertamenti, e scrissi una lettera e dissi che i killer ce l'hanno ammazzati a colpi di piombo. Purtroppo, devo dire che la stampa ce l'hanno ammazzati a colpi di penna, perché nessuno ha cercato di indagare un attimino, quando poi per televisione lo stesso sindaco dell'epoca, Pirozzi, il parroco Pedrillo di Casanovo, avevano portato testimonianza della signorilità di mio padre, dell'educazione, che ha cercato di dare mio padre a tutti noi figli. Infatti, non a caso, da questa famiglia escono cinque diplomati, due laureati, tutte persone che lavorano onestamente. Il messaggio e l'educazione che ci ha dato nostro padre era chiara. Però, purtroppo, negli anni 90, in un periodo bruttissimo, non solo per Casanovo, ma per tutta la Campania, dove per un non nulla in mezzo alla strada si ammazzava come cani, mio padre è capitato davanti ad un pregiudicato dell'epoca, il quale si è fatto scudo della sua persona, almeno dalle testimonianze ha avuto il logo da amici e persone. Noi andiamo avanti, in sua memoria, andiamo avanti, portiamo a mio padre, tra l'altro è stato anche un calciatore e ha fatto quarta serie, lo sport era la sua vita, lui era molto vicino allo sport, è stato uno dei fondatori della scuola calcio negli anni 70 a Casanovo, insieme ad altri amici locali, era Peppe uno di quei ragazzini che usciva da quella scuola calcio dell'epoca. In sintesi, una sola frase, quella che cos'è la camorra? Una montagna di merdo, lo ribadisco. Lo ribadiremo all'infinito, grazie mille. Siamo con Salvatore Richiello, consigliere della federazione. Salvatore, il significato della tua presenza oggi è uno stadio a te caro come lo Iorio di Casanovo? Stiamo parlando del memorial Pasquale Feliciello, stiamo parlando di un amico di famiglia che tanti anni fa è scomparso, stiamo parlando della famiglia Feliciello con la quale condividiamo dalla nascita, dalla gioventù, da quando eravamo ragazzini, che siamo amici di famiglia, quindi la vicinanza amicale, familiare, ma anche ovviamente sportiva, perché la famiglia Feliciello è da sempre che è stata una famiglia di sportivi, di impegno sportivo e magari anche di praticanti sportivi. Anche lo stesso compianto Pasquale Feliciello è stato uno dei primi che quando non c'erano ancora le scuole calcio faceva settore giovanile, diciamo alla buona, così come si faceva negli anni 70. Anche il figlio Giovanni è stato impegnato con il calcio, quindi è il minimo che doveva. Poi siamo a casa al nuovo ed è il terzo memorial, quindi la presenza è d'obbligo. Teresa, mi hai visto il filmato e per esempio quello che si pensa è non abbassare mai la guardia, veramente con non soltanto la chiacchia ma nella realtà dei fatti. Verissimo, verissimo, sono d'accordo. Vincenzo Naviello, l'anno scorso spende il protagonista Portici, un curriculum di tutto rispetto, inizio stagione l'impatto con una piazza bella come Afragola. Si diceva in inizio stagione gruppo vincente non si può ripetere, invece state smettendo quei fatti che il gruppo vincente, chi è abitato a vincere, si può ripetere. Diciamo che l'intento era quello di vincere da subito, però come ho detto già prima, c'è stato un campionato, come ha detto anche il mister, c'erano 4-5 compagini che hanno detto la loro durante l'arco del campionato. Sì, l'impatto con la piazza di Afragola è completamente diverso da quello che è Portici, perché Portici diciamo che si può dire che è quasi Napoli, mentre ad Afragola c'è l'Afragolese. Quindi è un continuo quotidianamente, la domenica diciamo che vivono di calcio. Ci hanno fatto sentire da subito l'importanza della stagione, che loro comunque dopo la grande delusione dello scorso anno volevano a tutti i costi questa risalita in Serie D dopo tanti anni e quindi diciamo che noi sentiamo ancora questa responsabilità, perché diciamo che ancora non abbiamo fatto nulla, perché c'è questa finale, andate e ritorno da giocarla e quindi diciamo che finora non abbiamo fatto niente. Unico obiettivo, domenica vincere un saluto a Vincenzo Revillo, da Peppe e d'Antonio Lanzante. Sì, l'unico obiettivo è quello lì, a noi ce lo stanno dicendo da tantissimo, ma noi lo vogliamo più di loro, perché la cosa più bella è riportare una categoria che manca da tanto in una città e per noi che facciamo questo oltre come lavoro, ma proprio come passione, io penso che è una cosa bellissima. Diretta telefonica con il direttore sportivo del Savoia Francesco Mennitto. Francesco buonasera, ben ritrovato. Buonasera, buonasera Mario, buonasera a te e a tutti gli ospiti in studio, in particolare a mister Di Costanzo e al direttore che combattì loro. Direttore, naturalmente il tuo intervento per collegarci con le immagini. Sabato pomeriggio è stato il giro di teore rinunziato, c'è stato un evento importante, si è ricordato la figura, è un capo tivoso storico del Savoia. Sì, sabato è stato un evento importante, il quarto memorial di Nocera, per commemorare la memoria di Alfonso Limone, uno storico tifoso del Savoia, di cui noi abbiamo avuto solo modo di ascoltare la leggenda di questo capo tifoso, che veramente è un'icona per il tifo blontino. Quindi per noi è stato un onore partecipare al memoria, al ricordare la memoria di Alfonso in presenza di tante vecchie glorie, in presenza dei familiari e soprattutto dei tifosi di Torre Annunziato. Francesco, grazie per questo tuo brevissimo intervento, vogliamo dare spazio alle immagini perché sono in anteprima, ne sono viste ancora, poi naturalmente il fermato integrale uscirà più tardi nella nostra pagina di Sport Event. Francesco, grazie e un in bocca al lupo naturalmente. Grazie a voi, ancora buonasera a tutti, buonasera. Si onora la figura di un capo tifoso storico del Savoia, allora via le immagini realizzate, lo ricordiamo, da nostro Salvatore Grasso. Fabio Montori, Manolo, Donato, Donato, Zio Mario, Cristino, Franco Gemella, Pasquale Arisata, Carmine Gian Grande, Ferdinando Ferroviere, Giacchino, Tittina Palluccella, Raffaele Pumù, Sidor, Gigi Farinelli, Martuscello, Pasquale Cilidro, Cattia di un professore, infine, oltre in particolare l'accoglimento, per due delle vittime del tragico crollo di via rampa annunciata nella scorsa 7 luglio ai grandi tifosi del Savoia, Pasquale Boniton e Marco Cucurullo. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie a tutti. Un giorno di un mongocione che cheggiava ed imputeva timore, avete una personalità spiccata da un po' lì del cittadino di Torre Nelziata, fuori al giro le persone che accerciavano per sentirti parlare, ma paradossalmente erano loro ad esserci scondati, con i tuoi discorsi e le tue cazzate li individuano tre giornate, prima di ogni partita si documentavi su arbitri, segnaline e commissari di campo, li martellavi per tutti i 90 minuti, insomma non avevano scampo, la trasferta e rischia fu meno rapida, la partita finissero 3 e tu trasformarti il coro Canterò per te in Bramma Fatto 3, come non parlare della discussione che andassi a fare la lecena per il tre partita del tempo, qualche morosso sceglieva di timoritti perché giocava in tazza, chiazzanti battendo i pugni, gridando siamo tutti di passaggio sulla terra, domenica sarà quella, per narrare tutta la tua storia non basterebbe un ciloveria, ma ha vissuto, pensa che Alfonso di Nocea, alias Rimone, aveva un gran cuore ed era il tiposo migliore, magari ti avessimo ancora al timore della nostra tiposeria e del savore, se oggi ci siamo innamorati di questa squadra legata ai nostri radici, lo dobbiamo a te e a molti tuoi amici, c'è qualcuno che come te ci guarda dalla curva del paradiso, non potremmo mai dimenticare la tua voce l'alba, i tre batti e il tuo mezzo sorriso, fofo, grazie per tutto quello che c'è dato, ci vedremo fino all'ultimo stato, curva a tutti torri e annunziata. Si onora la memoria di Alfonso Limone, grazie Ciro per averci chiamato, abbiamo passato il pomeriggio allo stadio Giro di Torre, annunziata, Giro ha derivato il momento, si, si dà l'ok, Teresa, passo pubblicitario. Mi raccomando, rimanete su questo canale, sintonizzati perché tra poco, tra poco ritorniamo, un attimo di pubblicità e siamo con voi. Eccoci rientrate, a brevissimo spazio pubblicitario, Gerardo Tucci è stato di parola, breve spazio pubblicitario, che darà spazio al parlato e ai nostri amici da casa, con i messaggi di tanti filmati che ci accompagneranno in questa lunga diretta. È arrivato il momento di vedere, di commentare in studio le immagini della fragolista. Vincenzo Noviello, anche in quartiera, domanda classica, gara di ritorno di settimana scorsa, quanto era temuto in città questa gara dopo aver vinto all'andata. Bisognava vincere e cominciare ad andare più avanti possibile. La vera temuta perché il risultato di 1-0 non ti dà quella tranquillità di poterti permettere di fare una partita tranquilla in casa. Comunque diciamo che la vittoria 1-0 lì, diciamo che non è quasi niente, sicuramente è una vittoria, però comunque tu perdendo 2-1 in casa, se perdevamo 2-1 in casa, comunque passavano loro. Quindi la cosa nostra è non pensare al risultato dell'andata, affrontare la partita per vincerla da subito. Infatti ci siamo riusciti, già il primo tempo eravamo sul 2-0. Il secondo tempo ci siamo rilassati un poco, abbiamo preso il gol, ma poi dopo con calma ci siamo messi di nuovo in sesto e abbiamo sfiorato noi più volte anche di fare il 3-1. Naturalmente adesso si espira la grande area della super sfida. Ricordiamola, giocherete contro il Bitonto. Sabato, domenica, gara 1 ad Afragola. Sì, diciamo che come già ho detto prima è una finale, parlando prima anche dell'Ercolanese. Vediamo la protezza del destro di Tommaso Manzo. Vabbè, ma Tommaso, noi quando vediamo le punizioni lì diciamo che è un calcio di rigore. Quindi parlando pure prima dell'Ercolanese, sono quelle partite dove le squadre sono di pari livello e sappiamo che dobbiamo giocare in casa e anche lì per vincerla e ce la giocheremo a tutto. Ce la giocheremo a tutto. Il prossimo turno sfidere del Bitonto. Nel Bitonto in attacco una vecchia conoscenza del calcio campano. Mi trattano nelle fie del Pomigliano e della Turis. Anton Giulio Picci, buonasera Antonio. Buonasera a te Mario, buonasera a te. Ciao Bomber, buonasera e ben ritrovato innanzitutto. Come stai? Sempre un piacere di sentirti Mario, buonasera a te. Ti hai legato una puntata meravigliosa in estate di Sport Event, quando hai dei primissimi giorni con la tua nuova esperienza della Turis. Antonio ben ritrovato, innanzitutto parliamo della tua realtà Bitonto. Come procede il campionato? Qui in studio abbiamo Vincenzo Noviello della Fragolise. No, procede fino adesso benissimo perché è una scelta momentaneamente di vita perché l'eccellenza non l'ho mai fatta. Con l'avvenuta della nascita di mio figlio ho voluto scegliere per la prima volta la famiglia invece che il calcio e quindi mi sono avvicinato a casa con questo progetto Omnia Bitonto dove a dicembre ho firmato, eravamo quasi in play out, abbiamo fatto una scalata fino ad arrivare ai play off e adesso siamo alla finalissima dei play off nazionali dove affronteremo, come hai detto tu, un'ottima squadra contro la Fragolise per questo sogno, per questa nuova società che è una finale storica perché è la prima volta che affronta l'eccellenza, addirittura la prima volta che può fare questo salto importante in Serie D. Speriamo che riusciamo nell'annessima impresa. Antonio, tu ti esalti nelle piazze calde, il vittorio del greco ami il rapporto viscerale con la tifoseria, verrai da Fragola dove troverai un ambiente caldissimo, un presumibilmente tutto esaurito perché sono due piazze che ambiscono per un posto al sole. Cosa temi della Fragolise? Ma hai detto bene tu, temo appunto il calore e l'importanza della piazza perché, ripeto, questa è il Bitonto che poi è chiamata Omnia Bitonto, la squadra è la seconda squadra di Bitonto, quindi è una realtà nuova con un presidente, un progetto serissimo, un presidente ricco e una squadra valida la nostra, però, ripeto, la Fragolise oltre che è un'ottima squadra dotata di ottimi calciatori, sarà difficile partire in una piazza che è una tipo che non è importante come la Fragolise, affamata di calcio e anche con giocatori molto validi, però, ripeto, anche noi siamo forti, quindi penso che sono arrivate in finale le due squadre più votate a livello di nome e a livello di costruzione di squadra. Antolo, dopo tanti anni splendido protagonista in categorie superiori, hai accettato di scendere di categorie, per quale motivo? L'ho spiegato, ho fatto una scelta momentanea perché è la prima e l'ultima volta che farò l'eccellenza perché mi sono vicino da casa perché è nato mio figlio, adesso che è nato, l'anno prossimo sicuramente tornerò in Serie D, ripeto, spero di farlo con questa società e di portarlo in Serie D, altrimenti sicuramente l'anno prossimo tornerò in Serie D perché penso che sia la categoria che più mi appartenga, anche perché, ripeto, sono riuscito a vincere cinque volte il campionato di Serie D e mi piace, come hai detto, tu, giocare nelle piazze calde e in piazze importanti e, ripeto, spero di farlo in questa società, altrimenti ho già avvistato il Presidente che purtroppo devo abbandonare questa categoria e questa squadra, quindi spero che riusciamo a vincere questa finale. Antonio, grazie, ci troviamo sabato, domenica da Fragulla, grazie del tuo intervento. Ci vediamo sabato, ciao. Ciao, grazie. Ciao, Mario, un abbraccio. Vincenzo, ti toccherà marcare Picci? Eh sì. Me lo sconto. Poi accettiamo subito la sfida. Si marcazzone, non è che è come una volta un uomo. Al di là di chi andrà a marcare sarà una bella sfida. Sicuramente loro sono un'ottima squadra, poi come ha detto lui è andato a dicembre, ma a dicembre non penso che sia stato l'unico che è andato, perché comunque hanno fatto una grande risalita e hanno dimostrato anche nei playoff sia regionali che nazionali che la squadra è forte. Noi sapevamo, diciamo, era un poco da tutti, eravamo le due squadre che dovevano arrivare in finale, diciamo che abbiamo rispettato un poco le aspettative di tutti e ce la dobbiamo giocare. ripeto, sarò ripetitivo, ma a questi livelli quando si arriva in finale diciamo che arrivano quasi sempre le squadre più forti, quindi si ripari le valori e solo i 180 minuti possono dire come andrà. Continuiamo con le immagini, Vincenzo, abbiamo parlato della società, abbiamo parlato dei tifosi, abbiamo parlato del mister Coppola, ma una menzione d'obbligo per Orlando Stiletti, non era facile ripetersi dopo lo splendido campionato di Portici, in silenzio altro campionato vincente. Direttore, oltre che è un grandissimo competente, è una persona spettacolare, non sto qua a dirlo perché penso che lo conosciamo un po' tutti. Lui è stato bravo a costruire un'ottima squadra all'inizio del campionato, poi diciamo che nel mercato di dicembre ha fatto qualche altro ritocco importantissimo e diciamo ancora una volta i fatti gli stanno dando ragione. I fatti gli stanno dando ragione, hai citato il direttore Stiletti per Magia, diretta telefonica con Orlando. Buonasera direttore. Buonasera Mario, buonasera. Ormai la puntata è andata incandescente e stiamo preparando a Fragolese Bitondo. Buonasera, ben ritrovato. Orlando, complimenti per questo campionato positivissimo. In studio abbiamo Vincenzo Noviello, da poco è intervenuto Antonio Picci, sabato o domenica sarà una sfida tutta da gustare. Assolutamente sì, sappiamo quanto ci tengono i diffusi, è la nostra società che già l'anno scorso voleva centrare questo obiettivo e diciamo per i sacrifici che abbiamo fatti tutti noi, sia la società, lo staff, i calciatori, i ragazzi, sarebbe meritatissima questa Serie D. Però c'è questo ostacolo Bitondo che lo dobbiamo affrontare con le molle, lo dobbiamo affrontare con lo cuore, con la grinta, quello che c'è sempre, con la distinta e cercare di regalare questo sogno a questa piaccia. Orlando, io da Antonio Picci ho chiesto cosa temi della Fregolese, domanda inversa, te invece cosa temi degli avversari? Ma gli avversari loro sono una squadra molto esperta come la nostra e hanno qualche giocatore forse in più in attacco che potrebbe crearci qualche problema, tipo Vadierno, Picci, insomma sono giocatori che non c'erano niente con l'eccellenza, però noi abbiamo un'ottima difesa, insomma abbiamo un'ottima attacco, quindi li possiamo contrabbattere in qualsiasi momento, poi Picci diceva che non voleva fare più l'eccellenza, magari l'hanno costruito a fare la Fragolo, non lo so. Ah, da Fragolo, perché fa parte delle caratteristiche di calciatore che potrebbero interessare, dai, ti potrebbero interessare in un ipotetico futuro a Fragolese in Serie D. Non c'erano niente con il Bitondo Vero, quindi parliamoci chiaro, sarà un'invasione di tifosi rosso-blu in terra barese, quindi voglio dire come Blasolo, come Piazza, come tutto, non c'è paragone con la Fragolo, non è che lo voglio dire per qualcosa, ma non c'è stato paragone tra uomini a Bitondo e a Fragolese, come Piazza parlo, eh. Certo, Orlando grazie, un in bocca al lupo, grazie a tutti gli interventi. Un saluto a Mise di Costanza, Carano Battilore e tutti gli amici studi, un bacio. Grazie mille, Orlando Seretti. A proposito di mister Nello di Costanzo, chi si sente in dovere di ringraziare dopo questo finale di stagione a Pomigliano? C'è qualcuno in particolare che si sente di ringraziare, insomma? Ma io penso che il primo ringraziamento debba andare al Presidente, il Presidente Pipola, che non ha fatto mancare niente. E poi ai ragazzi, i giocatori ci hanno messo il cuore da Mannone a Pisani, per intenderci. Poi lo staff, lo staff tecnico, ma non solo. Anche tutti i collaboratori che girano intorno, ai giocatori che li aiutano a farli stare al loro agio e a dare il meglio di sé. Quindi dai fisioterapisti al preparatore atletico, al magazziniere. Insomma, adesso veramente quando si ottiene un risultato, quando si raggiunge un obiettivo, il merito è veramente molto di quelli che stanno dietro alle quinte, perché aiutano chi poi sta sotto i riflettori a dare il meglio di sé. Senz'altro è condiviso il piacere di ottenere un risultato positivo. Vettore Madrecano, quando si sente al risultato positivo, un gruppo di giovani arrivano a dei risultati, le soddisfazioni sono doppie? Sicuramente sono doppie, perché hai creato un qualcosa a livello giovanile, a livello anche psicologico degli stessi ragazzi, che si sentono circondati da affetto e da stima per colui che li segue e li fa crescere. È chiaro che vincere con giocatori esperti non è che sia facile, perché io vedo che il mister ringrazia un po' tutti, ma secondo me il primo ad essere ringraziato dovrebbe essere lui, perché ha fatto un gran lavoro. Poi Nello di Costanzo è una garanzia, come squillante a Ercolano e come adesso sta facendo bene Maurizio da Fragola. È chiaro che avere i giocatori è tutta un'altra cosa, però lavorare con giocatori esperti e far crescere i ragazzi secondo me è fondamentale. Far crescere i ragazzi è fondamentale. Vincenzo, un tuo pensiero sugli under della Fragolise? Gli under della Fragolise sono ragazzi eccezionali, perché per stare in un gruppo come il nostro lo sei oppure ti elimini da solo. La cosa bella è che sono cresciuti tantissimo, penso che chi li è venuti a vedere dalla prima giornata ad oggi ha trovato dei ragazzi in continua crescita e che stanno dando una grandissima mano a questa squadra. Tengo a sottolinearlo perché a volte si parla come gli under, come quel giocatore in meno in campo. Invece a noi stanno dando una grande mano e stanno dando un grande apporto a questo cammino della Fragolise. E' arrivato il momento, nello spazio tutto canoro di Teresa Boccia. Teresa sì, stasera conduttrice, ma ricordiamo che sei una splendida artista, ci hai iniziato la settimana scorsa. Stasera, quest'oggi, cosa ci proponi? Allora, la volta scorsa abbiamo fatto, dove guardo? Di qua o di là? Di qua o di qua. Parole, parole che comunque ha avuto un successo strepitoso. Mario, devo dire la verità, in posta mi sono arrivati tantissimi messaggi e quindi mi sento il novere di accontentare il pubblico ripetendo di nuovo questa canzone che è appunto Parole Parole. Parole, per la volta scorsa, non cambia mai, non cambia mai, non cambia mai, non cambia mai, proprio mai, adesso ormai, ci puoi provare, chiamami tormento dai, già che ci sei, già che ci sei. Caramelle, caramelle, non ne voglio più Le rose e i violini, questa sera raccontagli un'altra Violini e rose li posso sentire Parole, va bene, però, bella, non cambia mai, non cambia mai, non cambia mai. Che cosa sei, che cosa sei, che cosa sei, cosa sei Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai, proprio mai Nessuno più ti può fermare, chiamami passione dai, hai visto mai Caramelle, non ne voglio più La luna ed i grilli, normalmente mi tengono sveglia Mentre io voglio dormire e sognare L'uomo che a volte sente quando c'è E parla almeno, che può piacere a me Parole, parole, parole Parole, parole, parole Parole, parole, parole Parole, 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 parole Soltanto parole, parole tra noi Parole, parole, parole Parole, parole, parole Parole, parole, parole Parole, parole, parole Soltanto parole, parole tra noi brava teresa complimenti presa complimenti brava brava artista 360 gradi non solo cantante ma anche splendida con un trice torniamo a parlare di calcio tralmente appunto è nelle vostre settimane che dobbiamo dare spazio al vasto repertorio per la gioia di giovanni da graniano mai impazzito lui discorso ha fatto i complimenti anche stasera mi piace ciao giovanni per salutarlo spazio alla e omaggio alla grande musica allora torniamo a parlare di calcio riflettori puntati sulla serie d con un girone come sottolinea il nostro armando gruppo barbando l'autore del greco si auguro un giorno con tante campane per l'amore del derby delle sfide spettacolo direttamente la torre del greco il presidente della turris presidente collantonio buonasera presidente grazie del tuo intervento ci ritroviamo stasera perché l'avevamo annunciato e stasera parte un po possiamo dire un nuovo corso una nuova era l'avevi sottolineato al termine della gara contro la versa mi servono 15 giorni per riprogrammare il tutto e poi partiamo più forte di prima il tuo intervento stasera per ufficializzare qualcosa certo adesso è nato ma ci sarà qualcuno ha già già portato il nuovo termine nasce l'era con l'antore 2.0 2.0 si stiamo iniziando a programmare l'abbiamo abbiamo iniziato nel confermare il direttore governucci nell'annunciare il nuovo mister grimaldi che sarà il nostro mister per la prossima stagione quindi presidente scusami conferme per il direttore governucci e teore grimaldi l'allenatore della turris stagione 2018 2019 sì possiamo dire che ufficiale ufficiale queste prime cariche presidente il tuo senso di dovere verso una città che ti sta acclamando nei cori nei tuoi confronti omaggio alla tua persona hanno fatto piacere ma adesso uno stimolo a far bene per programmare un futuro luminoso e vincente no ma sicuramente quest'anno non mi perdonerei mai non programmare una stagione diversa in quanto abbiamo tutto il tempo iniziando già da adesso a lavorare a stessa parte come ho detto il direttore come ho detto il mister per poter fare una squadra che si possa far togliere qualche situazione in più rispetto a quello che è accaduto l'anno scorso che tra l'altro da un lato è stato qualcosa di stupendo per dire il Liguri con 3 o 4 di la persona per dire una condizione pubblica però sono stati qui ci sono in passione quegli intercorsi tra l'ultima partita con Taranto e poi il play out con la verza Presidente partiamo da queste due le prime ufficializzazioni la conferma del direttore governucci perché dare fiducia all'operatore di mercato Antonio Governucci? la conferma del direttore governucci bisogna dare fiducia ai giovani il rapporto con un operatore di mercato è arrivato a campionato in corso ha fatto bene giusto dargli fiducia carta bianca sin dal primo giorno? no ma questo è normalissimo il tuo Pernucci è arrivato quando ormai ciò che erano fatti si è stato da traino, da pillante tra i giocatori, il Presidente con le altre parti che si vengono nella società nei momenti difficili è stata una persona che insieme al direttore generale è stata vicina a me quando i momenti di sconforto che ci sono stati quindi è giusto che abbia fatto una patenza assieme a me e che quindi possa continuare è giusto dargli fiducia e dargli anche carta bianca chiaramente invece Teori Grimaldi cosa ti ha colpito di questo allenatore? Perché la scelta è ricaduta su Teori Grimaldi? ma perché ho scelto Teori Grimaldi? Innanzitutto perché penso che quando tu dai in carico un direttore è lui che può scegliere tutte le altre persone io l'ho conosciuto ha un comodo di parlarci è una persona a cui si può dare fiducia determinata poi se me lo dice il direttore alziamo le mani Presidente un in bocca al lupo grazie per il tuo intervento e per queste due prime ufficializzazioni in casa a Turris grazie a tutti buona serata saluto a tutti gli ascoltatori grazie mille un saluto al Presidente della Turris Andrea De Rosa si parte col piede giusto in casa Turris si parte col piede giusto dopo un'annata difficile dove ha forgiato una società storica l'ultima partita contro la Versa Normanna c'erano secondo me quasi 5.000 persone Turris è una piazza come dicevo io storica dove da qualche anno purtroppo ha fatto dei campionati non all'altezza però penso che abbia trovato un Presidente che sia veramente l'uomo che può portare il calcio ad alti livelli infatti già prendendo già confermando il Direttore Governucci prendendo Grimaldi penso che la Turris sarà una squadra che l'anno prossimo sarà da vertice punterà a far bene complimenti per la salvezza ottenuta il più grande uomo di calcio campano Gaetano Battiloro un saluto a tutti gli altri ospiti studio in particolare al grande Matrecano saluti Danilo Leone diretta telefonica con noi c'è se non sbaglio Sandro Tambaro responsabile del Villa Ricca Calcio buonasera Sandro buonasera a tutti grazie del tuo intervento perché saremo protagonisti nei prossimi giorni in quel di Villa Ricca vogliamo presentare questo evento? Sì tra cui due sono straniere c'è il Helsinki e la Dina Gutier con dieci società direttantistiche naturalmente società professionistiche siamo al quarto appuntamento con il trofeo d'alterio le tue aspettative perché saranno giorni dove Villa Ricca sarà splendida protagonista con signori di società professionistiche sì diciamo le nostre ambizioni è fare sempre bene diciamo portare qualcosa di più positivo nel nostro territorio naturalmente il tuo messaggio alla società professionistica ma soprattutto ai tanti ragazzi che saranno protagonisti ricordiamo giovedì una presentazione diamo le coordinate per i nostri amici di Sportello dove devono venire per assistere giovedì giovedì iniziamo con la signora del inaugurale sì a 7.30 di la comunale di Villa Ricca poi il venerdì mattina incominciamo sui campi Sport Viva Già e la domenica finiamo con semifinali e finali in un unico campo naturalmente Sandro ci troveremo giovedì se non sbaglio grazie del tuo intervento e alla prossima puntata grazie a tutti buona serata ciao grazie mille Presidente Gaetano Battiloro la tua intenzione è cedere tutto quindi mollare tutto oppure creare o restare in un'altra società che fa? accetto una nuova sfida di parte assolutamente io l'ho detto prima ovunque andrò farò io il calcio quindi mi fa piacere portare questo titolo in una città che ha fame che ha voglia di fare bene che si possano sedere intorno a un tavolo insieme a me dei personaggi giusti e continuare a divertirci tutto qua poi scusami male poi non parlerò più complimenti a lei per la bella voce ma soprattutto per il brano perché quello sarà il mio inufficiale parole 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 che dirò trattanti del calcio campano grazie mille complimenti mister di costanzo in carriera si è tolto da grandissime soddisfazioni si è fatto voler bene tanti aneddoti chi nomina nomina subito ha dei ricordi legati a te questa salvezza del gruppo umiano quest'anno è stata dalle vittorie più belle insperate forse a un certo punto devi ringraziare a me perché se non ecco ecco sì è vero e viva la sincerità a volte certe sconfitte aiutano a fortificare sì avevamo toccato il fondo perché loro a fratta maggiore per dire a fratta maggiore a Mugnano ma la frattese ci aveva surclassato sotto tutti i punti di vista e quindi toccando il fondo non potevamo che risalire riguardo a alla soddisfazione che c'è nel riuscire ad agguantare il risultato positivo proprio nel finale così come per la Turris nell'ultima partita che ha dovuto fare i play out penare quindi 15 giorni in più devo dire veramente io sono felice per la piazza di Torre del Greco per questo presidente cioè già ci sono oltre all'obiettivo in sé della salvezza c'è anche il bilancio sano che forse è l'obiettivo principale il presidente penso che ce lo possa insegnare quando tu saldi tutti i debiti e inoltre raggiungi pure il risultato sportivo allora hai fatto il massimo e mi piace ricordare che quando poi riesci a ottenere il risultato sportivo nel finale dopo una stagione travagliata dopo che si è toccato appunto il fondo in qualche occasione e anche c'è una maggiore soddisfazione una maggiore felicità come è successo a noi che nell'ultimissimo minuto a Sansevero siamo riusciti a vincere la partita mi era successa una cosa del genere a Venezia playoff per andare cioè era l'ultima partita di campionato dalla C1 per andare in B e nell'ultimo secondo di partita vincemmo col Pisa 1 a 0 e quelle sono sono momenti indimenticabili perché poi quando vinci per 3 a 0 sembra che è stato anche tutto semplice quando in realtà poi non è non è proprio così però queste vittorie qui danno più soddisfazione come loro oppure della frattese che attraverso i play out sono andati a vincere nello stesso Sansevero contro i i pronostici proprio non ci consigliasti come vincere beh io non è che ti ho consigliato perché Antonio Maschi è stato bravissimo a studiarli bene perché un'altra squadra avrebbe giocato magari diversamente e di fronte c'era un organico possiamo dirlo sulla carta superiore sia a noi che a voi di gran lunga quindi bisognava studiarla bene la partita e non farsi abbindolare o soprattutto farsi fregare dal fatto che si giocava su un unico risultato perché anche noi dovevamo solamente vincere così come voi per la posizione di classifica quindi nella griglia play out voi eravate giù e avevate bisogno di vincere allora la tendenza è quella di scoprirsi per raggiungere risultati invece siete stati bravi come la mia squadra il pomigliano a a studiare bene la partita e a riuscire a raggiungere il risultato soprattutto poi al di là di tutto col cuore perché se non c'era questa grinta questa determinazione oltre alla lucidità strategico tattica non non si sarebbe riusciti a raggiungere il risultato né noi né voi ringraziamo il presidente con l'Antonio sicuramente farà una squadra competitiva noi staremo lì a tifare sempre Forza Turris un imboccolopo al direttore Governucci neotecnico Teore Grimaldi noi tifosi della Turris ci saremo Armando De Rosso del gruppo Barbando naturalmente Torre del Greco è intervenuto Sandro Tambaro responsabile della Villa Ricca Calcio presentando questo importante appuntamento non solo perché il prossimo fine settimana sarà dedicato un'ampia vetrina al calcio giovanile a proposito i talenti sono stati nel fine settimana l'attore del Greco spazio a una giovane promessa del settore giovanile Corallino classe 2001 Onofrio Colantonio presentazione di una delle giovani promesse del settore giovanile Corallino Onofrio Colantonio classe 2001 Allora Onofrio presentazione Allora sì sono Onofrio Colantonio centrocampista degli allievi 2001 della Turris nonché figlio del presidente Antonio Colantonio oggi giocatore oggi parliamo col giocatore due anni di militi dalle file coralline classe 2001 vogliamo ricordare chi è l'allenatore sì allora il mio allenatore è il mister Rosario Chiaese che in questi due anni mi ha seguito anche tra allievi e juniors nel primo anno ci siamo tolti tantissime soddisfazioni vincendo la finale allievi regionali contro la Damiano Promotion e quest'anno abbiamo un po' tentennato ma comunque siamo ancora in gioco nella Coppa Campania e nel torneo dei Gigli dove appunto in questi giorni abbiamo i quarti di finale contro l'Under 17 dell'Ercolanese classe 2001 io ho retornato nel tempo mi immagino quando io ero giovane andavo allo stadio e seguì le vicende della prima squadra domenica allo stadio di cuore oltre 4.000 persone si sono infiammate entusiasmate per una gara importante tu nel vedere il tuo allenatore Chiaese in campo a guidare i ragazzi cosa hai provato prima della gara perché è una partita sentitissima poi al tipice fischio finale è esplosa la gioia e la festa tra tutti i tifosi corallini sì certo sono contentissimo per il mister Rosario Chiaese perché comunque è una persona che lavora tutta la settimana per la Turris e anche per se stesso comunque penso sia per lui che per la società per mio padre è stata la giusta conclusione che meritavamo per come si è iscritta la Turris per il campionato che abbiamo avuto e sono contentissimo ripeto per lui e anche per mio padre perché comunque mentre mio padre scendeva le scale della tribuna e essere osannato c'è solo un presidente mi è scappata anche una lacrima di gioia anche a me quindi penso sia ripeto la giusta conclusione di questa annata sei un giovane calciatore classe 2001 tra le due giorni nel cassetto c'è quello di? certo io col calcio cerco di Mario cerco di centrocampista sì cerco di divertirmi e niente non spero in niente prendo tutto quello che viene perché comunque so che il calcio mi può dare sia esperienze calcistiche ma soprattutto esperienze di vita ho imparato a conoscere tantissime persone e niente se succederà bene se non succederà è stata solamente un'esperienza che mi ha formato è un cognome pesante sulle spalle naturalmente ma questo è inutile girarci attorno però la voglia di far bene di seguire i consigli del torneo di Chiaiese quest'anno è andato bene c'è la partecipazione della squadra al torneo di Giglia e le due manifestazioni ma l'anno scorso mi dicevi prima che avete vinto vi siete classificati con grande onore l'anno scorso ripeto abbiamo vinto gli allievi regionali contro la Damiano Promotion e niente sono state soddisfazioni anche per altri miei amici di squadra come entriamo in studio con la parte finale dedicata agli spareggi a tese finale di prima categoria Piange la San Gennarello sconfitta contro il Saviano in diretta telefonica come sempre il presidente della Real San Gennarello Giuseppe Maninconico Presidente buonasera Ciao Mario buonasera a tutti buonasera termina la stagione della Real San Gennarello a distanza di 24 ore quanto è grande l'amarezza e il tuo pensiero sulla conduzione arbitrale sull'uscita anticipata dai tuoi ragazzi perché nella mente di tutti c'era questo spareggio questa sfida alla Torrese domenica prossima il tuo pensiero a distanza di 24 ore Mario sono molto amarenti sono molto denunzioni ma c'è denunzione in ferro perché siamo usciti per non per i nostri ma siamo usciti per i problemi c'erano per i merdi altri quindi per quelle per i giocatori la persona io non ho mai voluto parlare degli altri in un anno non ho mai averci più consigliato e sempre non siate detto che vuoi capitare ma non non accicchetti questa cosa perché la vera prima volta tu mi hai seguito hai visto le decisione che sono fatte conto e questa cosa mi avevo tolto fastidio Mario non ha niente farse perché faccio a buonaccio per tanti soldi è per colpa di un ragazzo senza niente non ha ragazzo senza cosa non è molto scampo sia con l'interno quello cazzo è già da come dire presentato nei nostri punti c'è un di tra questo ci ci c'era sicuramente qualche cosa di Mario sono non non sono sicuramente qualcosa che ormai ho sempre detto che era impossibile non accetto questa cosa per me il calcio non c'è dire che oggi è finito non devo sapere più perché non è il calcio della Dugiana ma è il calcio della Dugiana il calcio è un altro Mario non mi sta bene più questa cosa ma sono dichiarazioni pesanti Giuseppe perché fresca l'amarezza naturalmente per questa sconfitta però io ti riparto una seconda osservazione ce lo siamo detti più volte nel corso delle ultime stagioni perché quando capitano questi eventi importanti gare decisive non si fa ricorso alla terna arbitrale viene mandato sempre un arbitro magari spesso e volentieri giovane e inesperto non abbiamo fatto ricorso la federazione della terna arbitrale non è ammessa non è ammessa perché non conveniva la federazione perché devono recuperare le società più grande a meno quelle finale se le vogliono oppure dobbiamo passivare se le vogliono non è ammessa nemmeno più per chi parlare perché possono fare buona di loro e basta ma io sono grazie a mio testo di una vita ma abbiamo fatto un anno di cantificio abbiamo fatto un anno di tutto e veniva un anno per merito di questa persona giuseppe grazie ai ragazzi per questo grande campionato grazie mister di martino grazie a tutti i ragazzi grazie a tutti i ragazzi vi ringrazio grazie a tutti gli ospiti anche Andrea il direttore per lo sanno un bacio forte giuseppe grazie un in bocca al lupo il sostegno l'incoraggiamento agli amici dell'area San Gennarello dicevamo quando stava parlando il presidente la terna arbitrale non è ammessa in prima categoria purtroppo pure sono stato un sacco di volte in federazione non è ammessa una sola volta capitò che ci fu la terna arbitrale quando ero alla San Gionese perché fu lo spareggio per vincere il campionato solamente in quel caso la federazione prevede la terna arbitrale adesso Madregano però io sento rivedo e ascolto le dichiarazioni dei protagonisti sia in caso positivo o negativo ma spesso mi sento dire sono arbitri giovani inesperti io ebbi modo di dire proprio nell'ultima trasmissione parlando degli arbitri che purtroppo i ragazzi iniziano questa attività forse anche qualcuno lo fa per sport qualcuno lo fa per il rimborso spese secondo me c'è tanta 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 incompetenza al di là della terna arbitrale è chiaro che dichiarazioni fatte così a caldo sono lesive per il calcio e per tutto eliminata dalla reale San Generello piange anche il Cellule nello sconto diretto contro le a Caserta le Aquile Rosa Nero Andrea Cellule piange anche qui termina il campionato in casa Cellule effimero il gol del vantaggio d'opera di Mario Paiuca le Aquile Rosa Nero sbarcono nell'attesa finalissima contro il Vitulano termina questo campionato per gli amici Freda e Donofrio mi dispiace perché hanno fatto un campionato importante c'era tanto entusiasmo è stata purtroppo quando giochi in trasferta è sempre difficile sai col doppio risultato mi dispiace perché veramente quest'anno pure con Paiuca che è un signor calciatore per la categoria però purtroppo si paga il fatto che comunque devi andare in trasferta trasferta lontana devi hai solo risultato a favore diventa difficile ecco perciò le salvezze del del presidente Battiloro e del mister di Costanza appunto parlavamo prima di salvezza con l'unico risultato poi hanno un gusto speciale Dottore Matregano un derby casertano le Aquile Rosa Nero nel direttore Ferraro anche qui Paiuca da un lato zona cellule ma Aquile Rosa Nero con Portone e Barletta sono vecchie volpi sono giocatori smaliziati esperti qui in sospetta posizione di fuori gioco l'attaccante dell'Aquile Rosa Nero anche qui scontro fraticida ma onore e merito a due squadre che hanno donato il torneo ricordiamo il girone dominato dal torneo Teano e queste due squadre che si sono battagliate nell'ultima giornata anche qui si potrebbe dire che forse c'è stato l'errore arbitrale però poi alla fine nel computo è un errore che ha condizionato la gara purtroppo la situazione è questa purtroppo l'arbitro è unico purtroppo gli errori si commettono e io dico sempre ai miei colleghi ai misteri ai direttori e gli addetti ai lavori di cercare di stare un attimino più calmi se no si esasperano gli animi e le cose poi vanno a finire nel modo sbagliato perché oggi ripeto può capitare a me e domani sicuramente all'altro io credo nella buona fede però credo anche e lo ripeto che ci sia tanta tanta incompetenza Vincenzo tanta incompetenza Vincenzo Navillo si richiama sempre alla buona fede si penso mi auguro si si sicuramente io appoggio quello che ha detto il direttore ci sta tanta incompetenza ma vediamo anche nelle categorie superiori anche con noi prima il direttore Andrea ha detto che peccano nel dialogo e questa è una cosa verissima perché io vedo in Serie A dove comunque ci parlano con i giocatori invece quando vengono in queste categorie minori che sono ragazzi che devono crescere dove forse possono anche imparare da qualche giocatore più esperto hanno quella quella forma di supremazia nei tuoi confronti si sentono al di sopra di te e molte volte queste cose li fanno sbagliare infatti poi anche nelle nostre categorie gli allenatori che fanno il salto di qualità e che crescono e che salgono di categoria sono sempre quegli albitri che durante la gara sanno parlare ti sanno prendere cercano di di migliorare anche loro partita dopo partita e quindi vediamo che alla fine quello che ha detto il direttore c'è troppa incompetenza io riscontro questa cosa Mario anche tutti i giorni secondo me dai ragazzi dai ventenni soprattutto dalle ragazze ventenni questa superbia nei confronti della persona un po' più grande potrebbero imparare e invece poi sempre da imparare termina la stagione in casa a cellule grazie finale il saluto all'avvocato Donofrio da sempre federissimi insieme al presidente Freda della causa grazie ragazzi per questo grande campionato vissuto intensamente un epilogo amarro di questo campionato che era era stata una cavalcata meravigliosa noi come società non possiamo che ringraziare i ragazzi per quanto abbiano fatto in questo campionato ringrazio tutti gli amici della società che con me hanno vissuto questo sogno ringrazio i diffusi che ci hanno sostenuto anche oggi diciamo che oggi forse i ragazzi hanno sentito troppo la tensione un saluto al presidente Angelo Freda al vicepresidente Donofrio tutti gli amici della cellule rosso-blu cellule rosso-blu siamo alle battute finali Gerardo stop non ci dà più altro minuto di trego di pausa allora un grazie a Vincenzo Noviello Lione insieme a Sassà Fiorillo e gli altri componenti della squadra grazie grazie di cuore al presidente della frattese Gaetano Battiloro grazie Mario affiancato naturalmente al suo braccio destro Alessio Madrigano grazie direttore grazie a voi per la squisita ospitalità che avete offerto a me e agli ospiti e un saluto a tutti a tutti gli spettatori di questa bellissima trasmissione settimana dopo settimana ci farà innamorare sempre di più artista a 360 gradi grazie a Teresa Moccia grazie mille a voi e vi aspetto mercoledì prossimo sempre sullo stesso canale con la sport lunedì prossimo ah scusami lunedì non so perché ho detto mercoledì vabbè lunedì appuntamento lunedì prossimo Enrico Rosso la diretta questo è il bello della diretta canale 271 buonasera e a lunedì prossimo grazie a tutti grazie a tutti